Con l'arrivo dell'estate non poteva mancare l'atteso appuntamento di un mare di latte e formaggio, manifestazione che da ben 18 anni promuove i formaggi di qualità tipici e tradizionali del territorio regionale, portandoli sulle spiagge del Veneto. I produttori latte del Veneto hanno riproposto a Caorle un mare di latte e formaggi lo scorso weekend tra i vacanzieri che hanno potuto così aggiungere un'occasione molto golosa al loro soggiorno con la mostra a mercato e le degustazioni nello stand allestito in piazza Giovanni XXIII tra la spiaggia di Levante e quella di Ponente. La casatella trevigiana DOP è stata la reginetta del weekend più gustoso del litorale Veneto con le ricette sotto le stelle di Martina Merlo. Per conquistare l'attenzione di un pubblico sempre più vasto, Aprolav nel 2004 ha intuito la grande potenzialità di far giungere sulle spiagge Venete meta di milioni di turisti italiani e stranieri il top dei formaggi regionali da far conoscere con un'ampia esposizione e piatti dati ad hoc da ristoranti e pizzerie del posto, utilizzando specialità casearie selezionate dall'associazione. I lì di veneziani prescelti sono Caorle e Bibione. Con la collaborazione della Proloco di Caorle, il patroccinio del comune Caorlino, Aprolav per te giorni riportato in piazza la vetrina delle sette DOP Venete Asiago, Casatella Trevigiana, Montasio, Grana Padano, Piave e Provolone Val Padana, a cui si aggiunge la mozzarella STG. Dopo la tre giorni di Caorle, Aprolav replicherà il format balneare a Bibione nel mese di settembre, non senza aver prima celebrato domenica 1 agosto i 25 anni della mostra dei formaggi Bastardo e Morlacco del Grappa, richiamando produttori appassionati a Malga Campocroce a 1048 metri di altitudine nel comune di Borso del Grappa. In attesa di dare il via nell'ultimo weekend di settembre a Caseus Veneti, la più importante manifestazione regionale dedicata all'eccellenza dei formaggi veneti.